Augusta, misure anti-Covid, carabinieri controllati, 278 persone, 156 veicoli, 27.000 euro di sanzioni. Sono molteplici e di varie nature servizi effettuati dall'Arma dei Carabinieri che, oltre a vigilare le zone più sensibili della giurisdizione sotto il profilo dell'Ordine della Sicurezza Pubblica, si sono occupati a far rispettare le misure in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 emanate negli ultimi di PCM, con numerose ispezioni e posti di controllo in corrispondenza delle principali arterie stradali cittadine ed extraurbane, dando altresì impulso all'azione di prevenzione e al contrasto ai comportamenti potenzialmente di maggiore pericolo. I Carabinieri della Compagnia di Augusta, nell'ambito dell'attività finalizzata alla prevenzione di reati in genere e anche al rispetto delle misure di contenimento della pandemia previste dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sull'intero territorio ricadente nella giurisdizione di competenza, hanno eseguito diversi servizi controllando un cospicuo numero di persone e veicoli. Durante i servizi di controllo e vigilanza, i Carabinieri hanno controllato diversi esercizi commerciali, 278 persone e 156 veicoli eseguiti a varie perquisizioni personali, veicolari e domiciliari, contestando diverse violazioni al codice della strada, tra cui 4 contestazioni per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, 2 per guida con telefono cellulare, 2 per mancanza di copertura assicurativa RCA, 1 per guida di moto senza l'uso del casco protettivo, 1 per guida sotto l'effetto dell'alcol. Per quest'ultima violazione il trasgressore è stato definito dalla competente autorità giudiziaria, poiché, sottoposto all'esame dell'alcol test, è risultato positivo per aver superato il limite tollerato dalla legge, ovvero lo 0,5 grammi per litro, toccando addirittura 1,5 grammi per litro. Le violazioni contestate raggiungono l'importo di circa 2.500 euro, sono stati ritirati 4 documenti di circolazione e sottratti complessivamente 35 punti dalle patente di guida. I carabinieri di Augusta nell'intera giurisdizione di competenza hanno ulteriormente intensificato i controlli al fine di far osservare i decreti governativi regionali, nonché le ordinanze sindacali in materia di contenimento della pandemia SARS-CoV-2. Nel compimento di tali servizi i carabinieri hanno sanzionato amministrativamente 65 persone per l'inosservanza dei decreti attualmente in vigore, per un importo di circa 27.000 euro.